Ogni inchiesta è un percorso, per cui non ce n'è una in particolare che mi ha appassionata. Sicuramente le ultime sulla Calabria, quella sulla Marlana e sulla Sorical, sono quelle che sento di più. Devo essere franca, ma perché le vivo sulla mia pelle? Così Giulia Zanfino, giornalista calabrese, dopo aver ricevuto un premio al suo operato da parte della Commissione Cultura del Comune di Cosenza, molte le inchieste di cui si è occupata negli anni, spesso su temi scottanti della Calabria, ma non solo. In questa Commissione stiamo continuando in queste nostre audizioni e stasera abbiamo avuto l'onore di avere tra di noi la giornalista d'assalto, Giulia Zanfino, che ci ha fatto vedere veramente un lavoro certosino, un lavoro preciso, un lavoro puntuale, che ha fatto su inchieste alquanto delicate e pericolose, sotto un aspetto anche socio-economico. Pur non vivendo più in Calabria, la Zanfino, che svolge anche l'attività di videomaker, spiega come nasce la passione per il lavoro di inchiesta e come viene mantenuto il legame con la propria terra d'origine. Vengo da una famiglia che ha sempre lottato per i diritti, soprattutto di questa terra, una famiglia molto radicata. Sebbene io sia nata all'estero, mio padre è molto legato alla realtà calabrese, quindi colpa sua, sicuramente colpa della famiglia.